Amici il quotidiano Dicembre 201.914,38 Miguel e Marco, durante la scorsa settimana, hanno seguito delle lezioni con la maestra Alessandra Celentano fuori dal normale orario di lezione. I ragazzi hanno chiesto che queste lezioni venissero inserite nel normale orario scolastico La proposta è stata accettata.Proprio per questo motivo i due allievi tengono, per la prima, una lezione singolarmente.14,34 La squadra Atene ha perso la sfida a squadre di sabato, per questo motivo, per essere ancora più incisiva, durante la puntata di ieri, ha chiesto alla produzione di poter cambiare alcuni pezzi delle sfide di canto, tra cui il guetto e le canzoni assegnate ad Alessandro.La proposta è stata accettata e quest'ultimo si trova in sala canto per preparare le tre canzoni. .14,31 Dalla puntata andata in onda lunedì sono emersi altri commenti. Infatti la squadra Sparta è convinta che la squadra Atene non si impegni abbastanza, per questo non riesce a vincere le varie prove. La squadra Atene cerca un chiarimento con la squadra Sparta.14,27 La produzione ha mostrato ai ragazzi la puntata del quotidiano andata in onda lunedì, anche per fargli capire le dinamiche che si stanno creando all'interno della classe e tra le squadre. Quello che è rimasto più colpito dalla puntata è stato Miguel. Infatti alcuni compagni non hanno espresso dei bei commenti in merito alla prova svolta dal ragazzo sabato davanti alla maestra Celentano, che riguardava il conteggio dei passi durante le coreografie. Il ragazzo chiarisce il tutto con i suoi compagni.14,21 Mou gli è entrato nella scuola nel ruolo di breaker, però vuole assolutamente imparare tutti i generi di danza possibili. Per questo si allena assiduamente con i professori, oggi è il turno della maestra Veronica Pepparini.14,19 Secondo Stacey il problema di Daniel è la memoria, per questo motivo, per risolvere il problema, decide di sottoporlo a una sorta di allenamento, facendogli imparare 9 testi a memoria. Se questo compito non verrà portato a termine, durante la puntata del sabato dovrà rimanere in sala relax.14,14 Il ragazzo ha ammesso che il problema tecnico è stato solo una scusa e ammette di aver avuto dei problemi di memoria a causa di alcuni problemi avuti durante le prove fatte prima dello speciale.14,11 Nella puntata di sabato Daniel ha avuto dei problemi di esecuzione durante l'esibizione con Giordana. Il ragazzo lamentava di avere avuto dei problemi con le armonitor. Per questo Stacey, in sala audio, cerca di capire la causa con il ragazzo.Per capire se ci sono stati realmente dei problemi tecnici, viene anche convocato anche il tecnico audio Simone.14,09 Se Arianna e Mimmi non riusciranno ad eseguire la coreografia secondo ciò che è stato richiesto dal professore, dovranno rinunciare a partecipare alla puntata e rimanere in sala relax.14,04 Questa settimana il professore di ballo Stephen Timor ha deciso di indire una challenge tra le ballerine Arianna e Mimmi. Secondo il suo giudizio le due ballerine sono molto diverse tra loro e per questo vorrebbe che le due ragazze imparassero a colmare le loro lacune grazie ai pregi della propria sfidante. Mimmi si allena in sala e danza, ma la ragazza sente che la coreografia è molto difficile e non prevede una buona riuscita per la puntata di sabato.14,00 Nella puntata di sabato Mameli, video virgola si è esibito con Zingara di Iva Zanicki, brano assegnatori da Rudy Zerbi. Esibizione non uscita per il meglio, per questo l'insegnante non gli ha permesso di partecipare al resto della puntata. I due ora si confrontano in sala incisione su ciò che è successo. Zerbi ha definito Mameli egoista e secondo il suo parere, se si fosse impegnato di più la sua squadra Atene non avrebbe perso. Il ragazzo si sfoga in sala relax con i compagni.13,55 Inizia una nuova puntata con il quotidiano di amici. Si parlerà dei preparativi per la puntata di sabato e delle controversie che in questi giorni stanno nascendo tra la squadra Atene e Sparta. Inizia una nuova puntata con i compagni.14,00